Grazie Don Matteo, non si preoccupi, un po' d'acqua e sapone e vieni via. Chi ti servirà a quel punto? Ah certo. Stanno arrivando. Davvero? Se si fida Don Matteo, io mi fido. Senta, scusi, volevamo sapere quanto costa farsi un totologio piccolo proprio come quello lì. Eh, ragazzi, entrate pure, ci sono vari prezzi, vari disegni, così date un'occhiata. Adesso, giorno di avarire. Oh. Che sta a fare? Buongiorno, Don Marisciallo. Ma non si fa male con l'acqua? No, solo un po' di solletica. Ma lei cosa ci fa qui? Oggi è il compleanno di mia moglie. Ah, auguri. Grazie. Oggi mia moglie compie... Non la diciamo, non la diciamo. Auguri, signora. Grazie. Allora, Marisa, io ho deciso. Siccome gli anelli me li perdo sempre, allora mio marito mi ha regalato questo. Che da un bellico è difficile perderlo. Allora a lei piace il tesi. Sì, ma fa un po' con impressione. Io mi... Quel tatuaggio col nome tuo ti fa capire che t'ama già. Tu stai vivendo una favola, ma sul bene che fai. Mille emozioni vi sfiorano, entrano dritte nell'anima. Sembra una luce che abbaglia e va, e nel cuore regna già. I sentimenti consultano, mille domande nell'anima. Oggi... Oggi... Grazie a tutti.